Credo una sentenza in primo grado, o siamo arrivati alla Cassazione? Cassazione, definitiva. Ok, più di 4 anni per gli abusi sessuali su di te prima dei 14 anni, prima del compimento del 14esimo anno di età. Il giudice, visto che stiamo parlando di giudice, aveva aperto in due faldoni questo tuo procedimento, uno prima dei 14 anni e uno dopo i 14 anni. Per i fatti compiuti da questo sacerdote dopo i 14 anni, invece, questo sacerdote non ha ricevuto nessuna condanna. Perché improvvisamente tu eri diventata consenziente, secondo il giudice, dal 13esimo anno a 14 anni, improvvisamente eri diventata consenziente. Cioè, prima del compimento della mezzanotte, lo scoccare della mezzanotte, della 14esima anno di età, era vittima. E poi, dopo 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti, 1 minuto, era consenziente. Era anche senza avermi sottoposto nemmeno a una consulenza che potesse dimostrare, appunto, se mi trovavo o non mi trovavo in uno stato di soggezione. Quindi è stato deciso tutto fin dall'inizio di dividere il fascicolo e di far andare le cose in un determinato modo, purtroppo. Ma almeno è stata dura la sentenza. Secondo te perché, Giada? Secondo me perché? È stata una spiegata o no? Io, sì, me la sono data una spiegazione. Emerge dalla documentazione in atti. L'hanno capito anche gli avvocati. L'hanno anche detto. Quindi io spero vivamente che il Ministro della Giustizia, o che sia anche il CSM, prenda dei dovuti provvedimenti nei confronti di questa gente che ha toccato in mano il mio fascicolo e che ha combinato tutto, diciamo, questa separazione e questo casino a livello processuale. Senti, noi fra un po' poi racconteremo la tua storia anche perché sei stata al Senato, c'è stato un lungo confronto parlamentare proprio sul tuo caso, perché è stato richiesto al Ministro Cartabbia, è stata richiesta appunto una risposta per tutto quello che stai vivendo e hai subito. Ti posso chiedere una cosa, senza dire il nome del paese, ma continui a ricevere minacce dal paese, tu? Assolutamente sì. Ancora? Ancora. Perché? Spiegami. Ma cosa ne appassi? Ma in che mondo vivi? Io non mi so dare una risposta. Cioè, anche dopo una condanna di quattro anni per abusi sessuali su un minore da parte del sacerdote del paese? Sì, sì, esatto. Vabbè, alcuni, diciamo, continuano a sostenere ancora che non è niente vero e che quindi va bene così. Cioè, dopo una condanna in Cassazione continuano a dire che non è vero? Sì, invece tutti gli altri dicono che io sono stata la seduttrice, cioè che ho sedotto un prete di 55 anni, quando eri una bambina. Quando eri 13. Quindi è questo che, cioè, mi continuano ad offendere in un modo a dir poco nobile. Miserabili, sono dei miserabili. Gnobili, proprio. Sono dei miserabili. Comunque torniamo... Ma che cosa che ti dicono? Che sono poco di buono. Una persona, cioè... ti danno la culpa.